Cose che non sapevi di volere per la tua scrivania parte 29 Se hai le matite sempre senza punta perché non hai un temperino decente Questo è un temperino con gli occhietti Forse non tempera meglio di un temperino normale Però c'ha gli occhietti dolci che ti guardano Non puoi dirgli di no E se non ti basta come bonus c'ha una caramella che nasconde una gomma a forma di cuore Lo trovi nel link e nei commenti